Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio molto interessante dal titolo Il Marchese e le città, le signorie di Oberto Pelavicino di Maddalena Moglia, pubblicato da Bruno Mondadori nel 2020, un libro corposo e infatti oggi anche per questo siamo qui a presentarlo con graditissimi ospiti che avranno il piacere e l'onore di annunciarsi, ma io comincerei subito con il primo che è il professor Paolo Grillo dell'Università degli Studi di Milano, docente di storia medievale, ordinario di storia medievale all'Università degli Studi di Milano. Prego Paolo, a te la parola. Bene, grazie Maurizio, è sempre un piacere essere tuo ospite. Oggi è un piacere particolare perché parliamo di un libro nostro molto bello, è un personaggio molto affascinante. Allora, vediamo innanzitutto appunto di chi parla questo libro. Oberto Pelavicino è un personaggio attivo a cavallo della metà del 200, esponente di una famiglia molto antica, gli Obertenghi, quindi ha un titolo marchionale, una famiglia che possiede un po' di castelli e molte terre sull'appennino emiliano, che però non ha mai avuto un ruolo veramente di protagonista nella vita politica e nella vita istituzionale della regione. Si apre un'opportunità negli anni 40 del 200, quando in questa zona infuria la guerra fra i comuni capitanati da Milano e Federico II. E Oberto Pelavicino, che fra le altre cose è un abile politico e un abilissimo comandante militare, si inserisce in questa vicenda, in questa lotta, schierandosi con l'imperatore e diventando rapidamente uno dei collaboratori più fidati dell'imperatore. Il quale gli dà tutta una serie di incarichi di crescente responsabilità fino a che gli affida quello che sarà il trampolino di lancio per la successiva carriera, la successiva vita del Pelavicino, ossia nel 1249 la protesteria di Cremona, che era di fatto la capitale, insomma il centro principale del dominio imperiale del nord. In realtà è una polpetta avvelenata, se vogliamo, perché la città in rivolta, i Belfi, se sono il filo, anzi gli antiimperiali, si sono appunto ribellati contro una dominazione imperiale sempre più oppressiva, sempre più esosa, e mezza città è fuori controllo. Il Pelavicino, con un mix molto abile di pressioni militari e aperture di dialogo, riesce però a pacificare la situazione e riportare Cremona sotto il controllo imperiale, ed è il primo vero grande successo che ottiene. Poco dopo, dicembre 1250, l'imperatore muore e l'eredità della politica imperiale del nord Italia passa a tre, chiamarli viadocchi, ai suoi tre più grandi collaboratori. Nel nord-ovest Galvano Lancia, nella Lombardia centrale Oberto Pelavicino, nella Lombardia orientale Zelino da Romano. E questi tre fanno scelte radicalmente opposte. Galvano Lancia passa al fronte opposto, per anche tutta una serie di suoi problemi, di rapporti personali, sia con gli altri, che odiavano quel Pelavicino, erano rivalissimi, sia con l'erede di Federico II, Cecco Radu IV, passa al fronte Filippo Esiastico. E Zelino da Romano, invece, instaura una vera dittatura, chiamiamola così, governa col terrore, paura di venire scalzato, adesso che gli manca il protettore imperiale e comincia a usare la forza, la violenza, per reprimere qualsiasi segno di opposizione o di scontento. Il Pelavicino, invece, è quello con la politica più ragionata. Da un lato consolida il suo ruolo di rappresentante imperiale, stringendo rapporti con i due figli di Federico, Corrado IV, che è rimasto in Germania, e Manfredi, che invece è rimasto nel regno di Sicilia, e ha fatto una politica di pacificazione, di garanzia, diciamo, della pace interna delle città, di mantenimento dell'ordine, anche, rafforzando la magistratura podestarile, in un momento in cui l'ordine, appunto, della parte imperiale sembra collassare sotto le sconfitte militari e la morte dell'imperatore, e in questa maniera non solo riesce a consolidare la sua presa su Cremona, ma negli anni successivi estende il suo dominio fino a costruire una dominazione sovracittadina davvero imponente che, in tempi diversi e con modalità diverse, raggiunge non soltanto Cremona, che rimarrà il focus, il cuore del suo potere, ma Piacenza, Pavia, Vercelli e Brescia, e con condizioni un po' diverse Milano, e un'area, diciamo, di influenza più vasta che arriva ad Aschi da un lato e a Parma dall'altro, quindi una vera e propria dominazione padana che si estende sul tutto il corso del fiume Po. Quindi una figura di successo, se vogliamo, uno che riesce per 15 anni a essere uno dei protagonisti assoluti della politica italiana, una figura che però non ha avuto grande successo storiografico. Rimane lapidario il giudizio che il primo grande biografo di Federico II, Gattorovic, ne diede, trattandolo poco più come che è un bandito da strada, insomma, un despota, un ritratto che non coincide, in realtà, davvero con la figura del pelavicino, e, dall'altro lato, in questa figura crudele, raffigurazione, insomma, di personaggio crudele e tirannico rimaneva comunque in secondo piano rispetto al piano di crudeltà, che è Zellino da Romano, no, su cui appunto si scrivono addirittura poi nel quattordicesimo secolo tragedie per cantarne la ferocia e la spietatezza. In realtà la costruzione politica e le capacità personali del pelavicino sono veramente importanti. Adesso poi sarà Alberto a parlare più nel dettaglio di come governava, cosa faceva, che punti di riferimento politici e sociali aveva il pelavicino. Io voglio sottolineare soltanto due elementi. Da un lato la grande puntabilità con cui il pelavicino tesse la trama delle alleanze politiche, delle amicizie personali, dei legami ideologici, anche quando è il caso della pressione militare, cioè agisce veramente a tutto tondo e partendo veramente da poco riesce in questa maniera a costruire questa dominazione così vasta che agli inizi del 1266 o alla fine del 65, non lo sappiamo esattamente, lo porterà addirittura a sentirsi in grado di minacciare il re di Francia, dicendogli di non mandare suo fratello Carlo Daggiò in Italia perché se no sarebbe stato travolto il fratello e tutto il regno dalla forza delle città pelaviciniane. Tra l'altro storiograficamente è molto interessante questa parabola del pelavicino anche perché mette in discussione un po' di nostre letture consolidate. C'è un po' un'idea della storia del comune, anzi della storia italiana del medievo, come una sorta di processo di ricomposizione territoriale sempre più grande, per cui prima ci sono le signorie, signorie rurali, i castelli, poi i comuni compattano attorno a sei contadi e fanno una prima tappa della costruzione territoriale, poi i comuni entrano in crisi, nascono nella maggior parte d'Italia le signorie, questa volta le signorie cittadine, quindi finisce la libertà comunale che non reggeva per l'altissima conflittualità, ma il vantaggio della signoria, il prezzo della libertà è appunto la capacità dei signori di compattare attorno a sei territori più grandi, gli stati che diventeranno nel 400 gli stati regionali e poi questi stati regionali nell'800 si ricomporranno nell'unità nazionale. Una bella storia lineare e con un fine preciso, l'unità d'Italia. Una storia che vicende come quella del Pelavicino ci aiutano a complicare, a complicare molto, perché il comune qui entra in crisi molto prima di quando dovrebbe, questi signori si impongono appunto nel 1250, non nel 300 quando sarebbe diciamo la cronologia prevista, in realtà si impongono con un appoggio esterno, quello dell'imperatore, che complica tutto il discorso sulla crisi interna del comune, sul fatto che il comune non regge, e si impongono spesso come garanti in realtà delle magistrature comunali e non come superatori delle magistrature comunali. E poi queste dominazioni, quella di Alberto Pelavicino, quella di Ezzalino da Romano, quella che poi costruirà Carlo D'Angio in Italia il centrosettentrionale, si sbriciolano e si torna alla situazione precedente di città-stato, di forme repubblicane e di libertà comunali, per cui non c'è in realtà un moto uniforme e unidirezionale, ci sono una serie di vicende, di, con un po' di forzatura potremmo chiamarli esperimenti, di storie personali, anche qui emerge molto bene secondo me il fatto che comunque ci sono i grandi processi storici, ma ci sono anche i personaggi. Roberto Pelavicino ha avuto l'abilità di costruire questa struttura territoriale, quell'abilità per dire a Galvano Lancia è mancata. Quindi un libro secondo me molto importante su un personaggio molto importante e ci provoca quel tanto che basta nelle nostre certezze per essere attirati a studiare questo periodo, questa seconda metà del Duecento, che è veramente un momento interessantissimo, dinamicissimo e vivacissimo della storia italiana. Questo è il quadro generale, adesso per una visione un po' più di dettaglio sui contenuti del libro lascio volentieri la parola ad Alberto Luongo. Grazie, grazie Paolo. Sì, io andrò in realtà a riempire di dettaglio e di contenuto quello che tu hai detto, provando a tenere come filo rosso del mio discorso il titolo di questo libro, che è appunto Il Marchese e le città. Ecco, già se si fosse intitolato Le città e il marchese sarebbe stato molto diverso e provo a capire, a spiegare perché secondo me è così. Allora, intanto vorrei partire da questo, appunto a considerare questo rapporto tra una figura territoriale legata all'impero, come ha detto Paolo, già dal proprio titolo marchionale, e il mondo cittadino. E lo farei in realtà partendo dalla figura del cugino di Oberto, cioè Guido, che mi sembra un punto di partenza interessante per capire cosa cambia nella mentalità di Oberto. Guido Pelavicino è un po' più grande di Oberto e che cosa fa? Partecipa alla Quarta Crociata. La Quarta Crociata nel 1204 è quella che, come molti sapranno, finisce con il saccheggio di Costantinopoli, quindi non arriva in Terra Santa, e la formazione di quello che chiamiamo l'impero latino d'Oriente. Guido segue Bonifacio di Monferrato in questa crociata e diventa a sua volta marchese, qui lo pronuncerò male, di Bodonizza, o Bodonizza, sostanzialmente il responsabile del territorio dove ci sono le famose Termopili. Il punto però qual è? Il punto è tentare di capire, e Maddalena lo riporta bene, il perché di questa, tra virgolette, fuga di Guido in Oriente. È appunto Salimbene de Adamo, il cronista di Parma, che ce lo spiega. Ve lo leggo brevemente, è una citazione brevissima. Dal momento che era nobile e dotato di grandigia di cuore, si sdegnava e mal sopportava che qualsiasi uomo appartenente alla classe popolare e venuto dalla campagna, gli potesse mandare un messo con la benda rossa per trascinarlo al palazzo del comune dove poteva chiamarlo in giudizio. Quindi questa è chiaramente la visione di un signore territoriale, di un marchese, che mal sopporta l'emergere dei comuni e appunto del fenomeno cittadino. Il cugino Oberto successivamente adotta esattamente l'atteggiamento opposto, nel senso che fin dall'inizio, prima ancora di collegarsi con Federico II, inizia a capire che se i propri territori, i propri domini rurali vogliono, diciamo, avere una speranza di sopravvivere o in qualche modo di convivere con il fenomeno comunale, con il movimento comunale, bisogna in qualche modo entrare nel gioco politico delle città. E quindi inizia all'inizio, ad esempio, a collegarsi con alcune famiglie importanti dal punto di vista economico, ad esempio i landi di Piacenza. Ecco, l'opportunità imperiale, quindi l'avvio della campagna di Federico II contro le città del Nord, è un'opportunità che, come prima diceva Paolo, Oberto, grazie alle sue qualità personali, riesce a cogliere, rivitalizzando, diciamo così, il suo ruolo marchionale, che fino a quel momento, per secoli, era stato, ovviamente quello della sua famiglia, era stato depotenziato, in qualche modo. Ecco, in questo momento quindi Oberto riesce a gradualmente ad acquisire sempre più potere, come diceva prima Paolo, e questo gli consente non solo di porsi nei confronti delle città come un rappresentante dell'impero, in un modo particolare che fra pochissimo dirò, ma anche in primis a, diciamo, espandere il proprio dominio territoriale. Ci sono delle cartine nel libro che lo fanno molto ben vedere, all'inizio i possedimenti di Oberto sono concentrati su una zona sempre, diciamo, a cavaliere tra i territori, tra i contagi di Cremona, Piacenza e Parma, ma spostati più verso l'Appennino, grazie alle concessioni che Federico II e poi Corrado IV faranno nei confronti di Oberto, questo patrimonio si allarga fino alla pianura, quindi quasi fino a tagliare in due, diciamo, il territorio tra Piacenza e Parma. Tra l'altro è interessante la strategia patrimoniale di Oberto perché che cosa fa? Non si accontenta delle concessioni imperiali, ma utilizza ciò che guadagna da queste concessioni per aumentare il proprio patrimonio personale, quindi la propria proprietà, scusate, il gioco di parole. Nel mentre, quindi, che il suo dominio territoriale si consolida in questo modo, ecco che si mette in atto anche la sua strategia di dominio cittadino, che, come diceva Paolo, è diversa da città a città. Lui si presenta nella maggior parte di queste città come il rappresentante dell'imperatore, ma dell'imperatore che pacifica, quindi dell'imperatore che non prende ufficialmente le parti di uno schieramento piuttosto che l'altro, ma è molto ben attento invece a collegarsi a chi ha i capi delle parti interne alle città che in qualche modo possono fare per lui, diciamolo brutalmente, anche se in maniera forse un po' imprecisa, il lavoro sporco, cioè il mantenere comunque la città fedele a una certa idea di impero. E questo è interessante perché non in tutte le città è la stessa parte, diciamo così, quella su cui Oberto si appoggia, ma Oberto ha l'abilità di capire, a seconda della città, quale è il partito, diciamo così, che ha più probabilità probabilmente di egemonizzare la città. Per esempio, a Pavia sono i milites che si legano soprattutto, quindi l'aristocrazia, il cavalierato cittadino che si lega a Oberto, mentre invece a Piacenza, che comunque ha una tradizione in cui l'aristocrazia e il popolo sono più legati, è il partito del popolo, e la parte del popolo, la cosiddetta pars populi, a essere il punto di riferimento di Oberto. Ecco, dicevo prima, è importante tenere fedeli queste città all'idea di impero, di cui dicevo, quindi l'impero come pacificatore, è più semplice a Cremona e a Pavia, che hanno una tradizione imperiale di tutto rispetto, un po' meno a Piacenza, e infatti Piacenza sarà la città che creerà un pochino più di problemi a Oberto per il mantenimento di questo potere. Ma ecco, appunto, ci tenevo a sottolineare questa particolare idea di impero, perché? Perché allo stesso tempo il dominio del Pelavicino è sì filo imperiale, ma non lo è in maniera estremista, diciamo così, perché, facciamo un esempio, un'altra città che non è direttamente dominata dal Pelavicino, ma su cui il Pelavicino ha notevole influenza, è Parma. Parma, durante l'intero periodo, insomma, della signoria del Pelavicino, è schierata con la Chiesa, ma è guidata da esponenti del gruppo dirigente parmigiano, favorevoli, diciamo, a un collegamento, in qualche modo, con la parte del Pelavicino. Quindi riesce anche a mantenere alcuni rapporti con Parma. In una fase più avanzata, lo anticipava forse prima già anche Paolo, addirittura Oberto entra anche nel gioco politico milanese, anche se forse più come braccio armato di Martino della Torre, che è il vero signore di Milano. Ma questo ci dà ancora, secondo me, l'idea di come Oberto fosse molto abile nel leggere le varie situazioni e ad inserirsi secondo i canali che aveva più, i canali dentro i quali c'erano più probabilità di ottenere successo. Ecco, questa sua apertura si vede anche su un lato particolare che è contenuto nel libro, che è esplorato nel libro, cioè la politica economica. Nel momento in cui Oberto si trova ad avere un insieme di città sotto il suo dominio abbastanza importante e quindi, diciamo, la dimensione territoriale occupa uno spazio importante lungo il Po e lungo l'Appennino Emiliano, ecco che c'è un tentativo di aprire anche degli spazi economici alternativi a quelli che prima erano in realtà più di pertinenza di città come Milano e Como e che quindi passavano soprattutto tramite l'asse appunto Milano e Alessandria e Genova, insomma, dalla parte del Piemonte. Essendo invece il dominio del Pelavicino più spostato verso sud, sud-sud-est, insomma, verso l'Emilia, diciamo così, ecco che una volta che la dimensione territoriale lo consente ci si sposta verso Genova, prima avversaria del Pelavicino, e anche verso Firenze. Firenze che in quel momento, siamo alla fine degli anni 50, è politicamente in una fase sì, diciamo, guelfa, per semplificare, ma in una fase in cui c'è un tentativo di accordo tra le parti, quindi ancora una volta la pacificazione che ritorna e può quindi sposarsi, tra virgolette, col progetto economico, in questo caso, di Oberto. Ecco, questo secondo me è appunto un altro degli aspetti interessanti. Chiuderei questa mia disamina riflettendo su come finisce l'esperienza del Pelavicino, perché appunto questo sistema, questa flessibilità di Oberto è il suo punto di forza, ma nel momento in cui cambia il quadro politico italiano diventa il suo punto debole, proprio perché, come abbiamo detto, il suo trampolino di lancio e il collegamento con l'impero, grazie al collegamento con l'impero riesce a instaurare un dominio più o meno forte su un gruppo vasto di città, ma a un certo punto però il vento cambia. E che cosa succede? Succede che Carlo D'Angiò vince a Benevento contro Manfredi, non prima di aver battuto anche lo stesso Oberto che in vano prova a fermarlo sull'oglio, sulla linea dell'oglio e quindi in poco tempo tutto ciò che diciamo lui rappresentava dal punto di vista ideale viene meno fondamentalmente e anche gli agganci che aveva nelle città, molti di essi, iniziano in qualche modo a sganciarsi dalla sua autorità, a chi verso esperienze di governo personale a sua volta, a chi semplicemente cambiando orientamento politico. Ecco, sembrerebbe dunque un fallimento come dire abbastanza abbastanza totale e per certi aspetti lo è nel senso che nessun erede di Oberto riuscirà poi a riconquistare lo stesso peso politico successivamente. Però io credo sia molto interessante sottolineare un punto contenuto nel testamento che Oberto poco prima di morire scrive, siamo nel 1269 quindi ha già perso il potere che aveva in passato, si ritira nella sua dimora e fra le varie clausole che sono contenute sempre nei testamenti ce n'è intanto una interessante perché i tutori dei suoi eredi sono da lui nominati e sono i cardinali Ottaviano e Ottobuono Fieschi e i conti guidi quindi si tratta di due esponenti di quella aristocrazia rurale della quale lo stesso Oberto e i Pelavicino facevano parte quindi ecco che ritorna la dimensione da cui tra le due atti siamo partiti ma che sostanzialmente non è mai stata abbandonata quindi questo è l'ambito in cui ancora il marchese probabilmente si sente alla fine della sua vita però allo stesso tempo dà un consiglio agli stessi eredi e per farla breve lo dico in maniera breve dice sostanzialmente mi raccomando continuate a mantenere le vostre amicizie nelle città di Cremona di Pavia di Parma elencando anche in molti casi i nomi proprio degli amici da mantenere nelle città ovviamente l'amicizia è in questo caso un termine dal forte significato politico e questo se vogliamo è qualcosa che insisto in maniera diversa e meno appariscente ma in qualche modo continua e anche questo Maddalena lo sottolinea continua in tono minore anche perché in questo momento Oberto ha un figlio troppo giovane insomma per poter proseguire la diciamo la carriera del padre ma ecco quelli che poi saranno i pallavicini saranno comunque una delle famiglie più importanti ad esempio a Parma pur continuando a mantenere un nucleo di possedimenti nel territorio che in qualche modo è figlio di quella politica territoriale che il pelavicino aveva fatto nel momento di maggior fortuna della sua parabola politica quindi ecco che il consiglio di attenzione tenete sempre un legame con le città che è un po' il filo rosso che dicevo all'inizio ritorna anche successivamente è una parabola quella del pelavicino che ha comunque delle conseguenze sulla propria famiglia che insomma sono interessanti da studiare e da capire ecco quindi una dimensione marchionale che rimane nonostante il ruolo importante che il marchese riesce a ritagliarsi nelle città per quello insomma il marchese e le città partendo dal marchese ha secondo me un titolo particolarmente efficace ecco questo è un po' quello che volevo sottolineare di questo bel libro tra l'altro e qui veramente chiudo sottolineando anche un certo lavoro di indagine da parte di Maddalena perché per chi magari fosse interessato a come lavora lo storico qui si tratta di studiare tante città lo avrete capito praticamente tutte queste città non hanno conservato un archivio comunale quindi Maddalena è dovuta andare a vedersi tutte le pergamene conservate ad esempio dagli enti ecclesiastici o quella pochissima documentazione comunale che ci è rimasta e tentare di capire tutte queste cose da frammenti da frasi personaggi citati in alcuni documenti ecco quindi questo è secondo me un valore aggiunto a questo a questo bel libro insomma e mi taccio bene allora concludo io e innanzitutto volevo davvero ringraziare Maurizio Calì e l'associazione Italia Medievale per questo spazio per questa possibilità e Paolo e Alberto per la loro lettura attenta e davvero hanno colto i punti principali della della mia ricerca una ricerca che come appunto adesso diceva Alberto concludendo per la quale mi sono scontrata innanzitutto con un problema legato alla documentazione che è una documentazione molto frammentaria perché appunto non sono sopravvissuti gli archivi dei comuni di queste città gli archivi duecenteschi e quindi non avevo a disposizione quelle fonti essenziali per poter osservare la vita politica amministrativa di queste città fonti quali i verbali dei consigli comunali piuttosto che i registri dei tribunali o dell'amministrazione finanziaria ecco e quindi in mancanza di questo tipo di documentazione appunto ho cercato attraverso gli archivi degli enti ecclesiastici presenti nelle varie città ed è stato bello anche vedere appunto come in maniera indiretta si riesce comunque piano piano a far emergere una vicenda politico storica quella di Roberto Pelavicino che tra le varie cause per cui appunto era stata messa ai margini dalla storiografia era anche quella appunto di questa situazione delle fonti così lacunosa e sì io direi che alla base la domanda forse principale che era alla base del mio lavoro è quella sulla natura del dominio del Pelavicino quindi se si trattò di una dominazione coesa coerente oppure se fu semplicemente un agglomerato di città che erano legate al Marchese ma che di fatto non avevano invece un legame tra di loro e e qui vediamo che se assumiamo il punto di vista del Marchese c'è un forte tentativo di dare una coerenza a questo dominio e lo possiamo vedere sia a livello ideologico per esempio nei titoli assunti dal Marchese che continua anche in un momento in cui dopo il 1254 quando muore l'ultimo erede nel nord Italia di Federico II Corrado IV il pelavicino continua a nominarsi vicario imperiale e quindi insomma una legittimazione ad agire in uno spazio già sovracittadino oltre a livello ideologico lo vediamo anche a livello istituzionale perché per esempio nella circolazione dei podestà che il pelavicino manda nelle varie città vediamo che questi podestà non provengono tutti da una stessa città come poteva essere Cremona che appunto come ricordava Paolo è la città tra virgolette capitale della dominazione pelaviciniana ma sono podestà che vengono da tutte le città che entrano nell'egemonia di Oberto e quindi e si scambiano tra di loro quindi c'è il tentativo di creare appunto una connessione a livello anche istituzionale politico e questo tentativo si vede anche a livello militare il pelavicino come ricordava Paolo è davvero una figura di spicco proprio anche per le sue capacità per le sue doti di comandante militare e queste capacità gli valgono innanzitutto la fiducia di Federico II e poi anche lo legittimano insomma in alcune città penso principalmente a Milano che viene chiamato innanzitutto proprio come comandante militare ma anche diciamo le altre città piuttosto di averlo come nemico cercano di averlo come governante e l'esercito inoltre è anche un luogo di incontro perché il fulcro dell'esercito del pelavicino anzi degli eserciti potremmo dire non è composto dagli uomini provenienti dalle sue terre dalle terre marchionali ma dalle truppe delle città che di volta in volta vengono arruolate contemporaneamente e quindi l'esercito davvero diventa un luogo di incontro di uomini di città diverse provenienze sociali diverse tutto questo però se cambiamo prospettiva insomma se guardiamo la prospettiva delle città vediamo che questo tentativo di creare un dominio coeso è molto diverso perché come ricordava Alberto a seconda di ogni città vediamo un rapporto tra il signore e la città sottomessa molto diverso Cremona è sicuramente la città privilegiata dal pelavicino anche per la forte tradizione imperiale che aveva e qui davvero il pelavicino governa come dominus come signore per 15 anni scardinando anche quindi lui governa come signore e podestà perpetuo quindi anche scardinando quel ricambio annuale delle magistrature podestarili cosa che non avviene in altre città come può essere Pavia dove più che di dominazione forse dovremmo parlare di alleanza è diverso ancora il caso di Piacenza che si vede dalla documentazione che fatica a considerarsi parte di una dominazione sovralocale in più occasioni agisce da sola autonomamente dal pelavicino e è diverso ancora ovviamente il caso di Milano dove qui i rapporti di forza sono invece a favore di Martino della Torre più che di Oberto che nonostante questo ha comunque un ruolo centrale in città e quindi davvero vediamo questa forte sperimentazione politica che insomma che distingue anche la dominazione del pelavicino dagli altri modelli politici che i signori del periodo attuano e vediamo dunque come insomma queste città o comunque il territorio italiano nel periodo post-federiciano è davvero un laboratorio politico di convivenza politica che rende questo periodo e questo personaggio estremamente affascinante ecco io concluderei qui ringraziando davvero ancora tutti quanti io direi che a questo punto non resta che correre in libreria e acquistare il libro di Maddalena di cui ricordo il titolo il marchese e le città le signorie di Oberto Pelavicino edito da Bruno Mondadori del 2020 un libro assolutamente interessante pieno di di storia di storia importante perché poi qui parliamo di un'epoca che forse tra le più intriganti di tutto il periodo medievale per composizione e scomposizione sembra veramente un lego o un monopolio o un risico quasi città e signorie signorie rurali signorie cittadine quindi veramente ce n'è per tutti i gusti e ringrazio anch'io ovviamente tantissimo Maddalena per aver accettato il nostro invito ringrazio anche molto Alberto Luongo e Paolo Grillo che ci hanno tenuto compagnie e ci hanno introdotto alla conoscenza di questo importante saggio quindi grazie a tutti e e a presto e e buon ritorno in presenza forse ci siamo dai si spera almeno quest'autunno di poter tornare con il pubblico in sala anche noi come musicisti vediamo grazie a tutti Grazie a tutti.